Signore e signori, per la prima volta nella storia della Pistocamp... Un esardiente vince la Pistocamp... Sì! Abbiamo tre vincitori in secco! Ehi, McQueen! Accidenti che figuraccia, ma io non mi preoccuperei... Perché ne l'ho fatta io? I commissari della Pistocamp hanno stabilito che i tre a parimento facciano una corsa di spareggio in California, fra una settimana... Beh, grazie, grazie a tutti voi, grazie! Ehi, Pivello, il primo che arriva in California si portiva la daino con il solitario... Ah, non io! Voi siete morti! E lo sapete!